Un incontro per conoscere la figura di un caprinese da ricordare, Donigino Silvestrelli, fondatore dell'opera Famiglia di Nazareth. Il carisma del sacerdote veronese sarà illustrato da Don Luciano Piccina, uno dei primi figli spirituali del padre, dal 1956. Padre Silvestrelli, il curriculum vitae, cioè il percorso della sua vita, è un percorso che fin dall'infanzia direi tortuoso, complicato e anche doloroso. Però con gli avvenimenti futuri tutto si è rivelato provvidenziato nella sua vita, sia per l'arrivo al sacerdozio e sia per questa fondazione, per la fondazione dell'opera Famiglia di Nazareth. È nativo di Porcino, della parrocchia di Pazzon e del comune di Caprino. È diventato sacerdote nella diocese di Verona nel 1946 e ha iniziato questa fondazione nel 1956 con l'approvazione e la benedizione dell'allora vescovo Monsignor Giovanni Urbani. A Solane, nel Veronese, c'è il cuore della fondazione, con il santuario al cui interno è sepolto Silvestrelli e la casa dove passò gli ultimi anni della sua vita, lo studio con la Bibbia su cui studiava e appuntava le note, alcune reliquie e la cappellina dove pregava davanti a Gesù presente nel Santissimo Sacramento. Vivissima fu la sua devozione alla Madonna e a San Giuseppe e il senso della provvidenza come dono di Dio che non abbandona chi si affida a Lui. La sua spiritualità è una spiritualità, diciamo, senza esagerare, da santo. Chi l'ha avvicinato ha sentito che ha avvertito la presenza di Dio, un uomo di Dio, un uomo di grande preghiera. Ora siete qui, c'è il giovedì oggi e c'è l'adorazione che Lui ha voluto fin dal primo giorno di fondazione, tutto il giorno del giovedì. La Santa Messa era il centro della sua vita, ma anche qui dove ha abitato anni e anni e anni, in quella casa antica che c'è lì, si è ritagliato un bugigatto, la chiamiamo così, dove conservava il Santissimo Sacramento per convivere, non solo per celebrare, ma per convivere con l'Eucaristia. L'incontro per conoscere Silvestrelli si terrà questa sera alle 20.30 nel Museo di Palazzo Carlotti di Caprino Veronese, domenica alle 11.15 nella chiesa di Pazzon, una concelebrazione solenne nel ricordo di Donigino. Nel suo percorso di vita da giovane fu tre anni insieme con i Gesuiti, fu insieme 5-6 anni con i Salesiani, e i Salesiani vedono il campo di lavoro, i ragazzi, gli adolescenti, e i Gesuiti il metodo per avvicinarli, per accostarli, per aiutarli a essere buoni cittadini e buoni cristiani.